Benvenuti su FisioterapiaRubiera.com, portale di medicina ad essere. La frattura della tibia è la rottura di una delle due ossa della gamba, in particolare quella più anteriore e interna. Questa frattura può avvenire a livello superiore, quindi a livello del ginocchio, anche se è più rara, può avvenire a livello della diafisi o a livello inferiore, quindi nelle piefisi distalle questa è la più frequente. Quali sono le cause? Le cause sono sicuramente una caduta dall'alto, un incidente stradale, oppure una distorsione o anche un tumore o una metastasi ossea. Quanti tipi di fratture ci sono? Le fratture si classificano in base alla forma, può essere longitudinale, trasversale o a spirale, se ha una forma spiroide, però possono essere anche classificate in base alla gravità. Quindi ci sono le fratture composte, in cui i frammenti non si spostano, le fratture scomposte in cui avviene lo spostamento dei frammenti rispetto agli altri, possono essere combinate se ci sono tanti frammenti, oppure può essere a legno verde, cioè questa frattura avviene soprattutto nei bambini, in cui si rompe l'osso all'interno, ma rimane intatto il periostio, cioè la membrana esterna che riveste l'osso, e quindi sono meno gravi. Poi ci sono le fratture da stress, che sono causate da microtraumi ripetuti, e si verificano soprattutto in maratoneti, o altre persone che hanno continui piccoli traumi sull'osso. Quali sono i sintomi della frattura della tibia? Sicuramente c'è il dolore nella zona in cui è venuto, e c'è la rigidità. Se la lesione è venuta vicino al ginocchio, ci saranno problemi a muovere questa articolazione. Se è venuta più vicino alla piede, ci saranno problemi a muovere la caviglia. Inoltre c'è gonfiora, ematoma, impossibilità di camminare, perché non ci riesce ad appoggiare il peso sulla gamba rotta, e ci sarà in casi gravi anche una deformità, perché si potrebbero spostare i frammenti, e per esempio in caso di frattura esposta, l'osso, un frammento, esce fuori dalla pelle. Quali sono le possibili complicanze? Sicuramente ci possono essere delle complicanze, sia a breve che a lungo termine, come infezioni, la trombosi, se il paziente è immobilizzato per molto tempo. Questa consiste nella formazione di un coagulo di sangue in una vena che poi può partire e andare in circolo fino a porre il polmonio. E poi ci può essere sì la deformità, la zopia anche a lungo termine, il dolore, che si sente soprattutto nei momenti in cui cambia il tempo, nei due giorni precedenti all'arrivo di una perturbazione, si sente più dolore. Appena il chirurgo lo consente, bisognerà effettuare un programma di riabilitazione, cioè esercizi, rieducazione al passo, rieducazione per tutte le attività della vita quotidiana, oltre al recupero dell'equilibrio. La prolognosia dipende dall'età del paziente e dalla gravità della lesione, quindi un paziente giovane potendo guarire in circa 3-5 mesi. Un paziente anziano con osteoporosi, magari che prende anche dei farmaci per altri problemi di salute, come il diabete, ha bisogno di un tempo più lungo, quindi si parla di almeno 6 mesi. Grazie.